Piana degli olivi secolari in Puglia, 20.000 ettari con un milione di olivi secolari tra Carovigno, Ostuni, Fasano e Monopoli, iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici. Un traguardo importante per la Puglia, ieri in conferenza stampa illustrate le ricadute sul territorio e le prospettive future. Carovigno, Ostuni, Fasano e Monopoli, questi comuni che insieme al Parco delle Dune Costiere hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione del sito della Piana Olivetata nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici. L'importante traguardo è stato presentato a Bari nel corso di una conferenza stampa dall'assessore all'agricoltura della Regione Puglia Leonardo Di Gioia, dagli assessori regionali all'ambiente Filippo Caracciolo e all'urbanistica Alfonso Pisicchio e dal presidente del Parco delle Dune Costiere Enzo Lavarra. Il territorio interessato ha un'estensione di quasi 20.000 ettari all'interno, della quale gli olivi secolari sono un milione su 5 milioni presenti in tutta la Puglia, di cui circa 300 già censiti, etichettati e monitorati dalla Regione Puglia. Il sito della Piana Olivetata è tra i sei in tutta Italia che sono stati iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici, registro istituito nel 2012. Delle ricadute sui territori e delle potenzialità future di questo risultato raggiunto ha parlato l'assessore regionale Caracciolo. Mettere a sistema il nostro territorio, garantire quelle bellezze che abbiamo sul nostro territorio ci permette di ottenere riconoscimenti a livello mondiale. Oggi con questo riconoscimento la Puglia fruisce non soltanto di un bollino importante, ma soprattutto mette in evidenza quelle che sono le peculiarità. Grazie a un'agricoltura sempre più importante, sempre più capace di dimostrare la capacità dei propri agricoltori, di poterla valorizzare, un'urbanistica capace di dare valore al paesaggio e soprattutto la sostenibilità ambientale che permette di valorizzare in ambienti sani tutto il nostro paesaggio. Mi auguro che questo diventi sistema per il resto del territorio pugliese. Il riconoscimento della Piana degli Olivi Secolari di parte del territorio di Carovigno, Ostuni, Fasano e Monopoli nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici è un punto molto importante e avanzato di tutela del territorio, ha commentato l'assessore all'agricoltura della regione Puglia di Gioia. Un riconoscimento che non cristallizza una situazione ma che la valorizza. A fianco a questo arriva dal Ministero, da Ismea e da centri di ricerca l'esigenza di poter dare risorse per non solo la conservazione ma anche per poter valorizzare ulteriormente questi luoghi in una maniera dinamica per poterne attivare le migliori potenzialità. Su questo stiamo lavorando. Ovviamente quando parliamo di PSR dobbiamo sapere che la regione Puglia ha uno stanziamento di 1 miliardo 620 milioni di euro circa. Che queste risorse vanno equilibrate tra i territori, tra le priorità in base alle strategie agricole della nostra agricoltura appunto e che quindi ogni volta che parliamo di rimodulare significa che lo facciamo andando a cambiare le nostre priorità. Quindi con sapienza bisognerà trovare il modo per vedere ciò che nel PSR è improduttivo per destinarlo ad esempio a situazioni come queste dove oltre al concetto di ruralità nella sua accezione più importante sviluppiamo quello di turismo, sviluppiamo quello di ambiente e quindi sviluppiamo una serie di interdisciplinarità che rendono forte la nostra regione.